Sì, non è una cosa che mi ha fatto, non è un canso che mi chiede. Mi le dottie, ma non è un po' ma adesso è un po' di rinforzamento, questo è un marmo che cazava, indietro, staventava, questo è un po' di rinforzamento, questo è un po' di rinforzamento, questo è un po' di rinforzamento, un po' di rinforzamento, Grazie. Grazie. Grazie.